Meno 4, 360 minuti alla fine del campionato, 4 sfide, 2 in casa e 2 in trasferta, che diranno il destino del Termoli. Dopo il buon pari pre-Pasqua, reti bianche sul terreno del Monte Giorgio, praticamente giocato con un uomo in meno, causa espulsione di Eluazni, dopo 20 secondi per il Termoli, smaltite Colombe e Uova Pasquali si torna in campo. Per la trentunesima giornata del calendario mette in programma la sfida alla Cinzal Balonga. Obiettivo 3 punti per rimanere in scia a Lavastese e centrare la quinta vittoria stagionale. 29 punti conquistati finora con ben 17 pareggi, decisamente troppi. Non sarà facile, i Laziali sono attualmente quindi in classifica a 47 punti, con sole 7 sconfitte, ma arrivano in Molise, reduci dal brutto capo interno contro Lavastese. Risultato un po' a sorpresa che il proprio Gioro Rossi non è andato giù, ma tante domani sarà sfida vera. Mister D'Antoni punta tutto sul difensore Sbardella e sulla punta Borrelli. Fuori per squalifica Cappai e Buono. Ci vorrà il miglior Termoli, mister Esposito di Contro, che dovrà scontare la seconda giornata di squalifica e guiderà i suoi dalla tribuna. Deve affrontare diversi problemi di formazione. Sicuri assenti l'attaccante Eluazni ha piedato da giudice sportivo per due turni. Una giornata invece al centrocambista Maiorino e al difensore Uzzol. Ipotezzare U11 non è facile. In porta ha confermato Lombardo in grande forma, versione saracinesca a Monte Giorgio. Linea difensiva composta da Sicignano, Ciofi e Cagliazza. Smailai è fuori per infortunio. A centrocambio aggiranno Ragginino Scoppa con Corcione, Carnevale e De Marzo. Attaccanti saranno Lorusso, Diop e uno tra Basrak e Baldè. Partita fondamentale per i giallorossi da non sbagliare assolutamente. Nel match d'andata ha giocato all'Abbatini di Genzano, secco 2-0 per i padroni di casa, firmato Sivilla e Marianic. Domani, gioco forza, dovrà essere tutta un'altra storia. Al Gino Cannar, secondo fischio di Niso, fissato alle ore 15, termo di Cinza e Balonga sarà diretta dal signor Giuseppe Sassano della sezione di Padova, quadruvato dagli assistenti di linea Leonardo Rossini di Genova e Gennaro Scafuri di Reggio Emilia.